un bentrovati in aggiornamento con le previsioni di tre bimeteo un avvio di settimana con un anticiclone dal cuore mite su un po tutta l'italia ma è posizionato con i massimi sulla spagna al nord africa ci veicola aria temperata in direzione italia valori termici anche di 10 gradi oltre medie del periodo invece martedì dalla serata aggiungerà aria più fredda specie sulle adriatiche con un netto calo delle temperature anche qualche fiocco di neve a quote basse martedì notte sull'appennino andiamo a vedere la situazione però per lunedì una giornata che vedrà ampi rasserenamenti un po di variabilità sul centro sud alternate a schiarite più sole sulle adriatiche poi le foschie e le nebbie in pianura padana nottetempo al mattino guardiamo in sintesi la grafica non tanto per le condizioni meteo come detto un po di variabilità sulle tirreniche ma per le temperature perché non solo sul piemonte ma poi anche su molte località del centro sud sfioreremo i 20 gradi addirittura supereremo i 20 gradi sulle isole maggiori giornata dal sapore primaverile tutti i dettagli sull'app di trebi meteo